Promozione turistica ma anche occasione per fare il punto sulla montagna, su criticità e possibilità. È in corso in Piazza Duomo la prima edizione dell'Aquila Città di Montagna che terminerà il 4 novembre. Momento per ricordare sia la giovane sciatrice Matilde Lorenzi, morta nei giorni scorsi, che il maestro di sci di Pesco Costanzo, Franco Romito. Tanti bambini che è la cosa che ci interessa il più e soprattutto cominciamo a portare nel cuore dell'Aquila la montagna. Franco, ieri è arrivata questa brutta notizia, ancora non si capisce se è un incidente o un malore, è un grosso appassionato. È stato con me nel collegio regionale maestiscina negli ultimi vent'anni, è veramente una grossa perdita per lo sci abruzzese. Al centro ovviamente c'è il Gran Sasso con tutte le sue sfaccettature e un'attenzione particolare alla situazione funibia. Siamo stati proprio l'altro ieri all'Anfisa, quindi ho avuto questo incontro con l'ingegnere Marturano. Sono stati visionati i report per la sicurezza e tutti hanno dato un riscontro positivissimo. Sono ottimista per una ripresa di una stagione invernale che dovrà essere necessariamente ricca di neve, sia per gli appassionati della montagna che per il centro turistico che ha bisogno necessariamente di avere una stagione ricca di presenze e non solo di coloro che conoscono questa nostra meravigliosa montagna ma anche di chi logicamente si deve avvicinare alla nostra stazione che a mio avviso rimane una stazione con un potenziale enorme. Un evento bipartisan perché nasce da un emendamento del consigliere del PD Stefano Palumbo senza colori politici ad organizzare la manifestazione il comitato formato dal sindaco Biondi, dall'assessore Lancia, dal consigliere Luigi Faccia e componenti Livio Mittorini, Stefano Palumbo, Agostino Cittadini, Mauro Marini, Antonio Massena, Carlo Bolino e l'istancabile Fausto Tatone che ha gestito le fasi dell'organizzazione. Tanti appuntamenti, dimostrazioni in piazza, film e dibattiti ma anche 30 buyer presenti accompagnati da guile turistiche alla scoperta del territorio con l'incontro poi il 4 novembre con le strutture ricettive ed esperenziali con l'obiettivo di acquistare pacchetti turistici per il prossimo inverno e la prossima estate. Abbiamo deciso convintamente in maniera unitaria di riproporla a partire di quest'anno l'obiettivo è l'Aquila 2026 perché la montagna è la nostra cultura ma anche una risposta alla domanda le esigenze che ci venivano dagli operatori, non solo quelli del turismo ma anche l'attività commerciale di Piazza Duomo la scelta di riportare la montagna in Piazza Duomo è stata una scelta pensata, ragionata, simbolo della rinascita della nostra città ci stiamo impegnando, i primi risultati ci danno ragione affinché questa diventa una manifestazione baricentrica di l'Aquila capitale non solo della cultura ma anche capitale degli appennini. È stata una fortuna trovare questa convergenza all'interno del Consiglio Comunale visto che poi l'obiettivo ultimo non è tanto l'organizzazione di questa quattro giorni quanto quello di poter creare un contenitore di confronto tra tutti gli operatori del settore per fare rete e per creare una consapevolezza sul potenziale che il nostro territorio, le nostre montagne può dare a tutta la città. Grazie